Saurita la caccia al biglietto tra i tifosi della Siria in occasione del big match di domenica prossima al Palevangelisti quando a Perugia arriverà la capolista Lube. E intanto la squadra bianconera si prepara alla partita dei Champions che è in programma domani a Belgorod in Russia. Ce ne parla Elena Ballarani. Polverizzati in meno di 5 minuti. Come era prevedibile è già sold out per il big match in programma domenica 5 febbraio al Palevangelisti di Perugia per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega. La prevendita è scattata alle 10, nelle varie modalità. Online, direttamente dal sito di Booking Show e nei 15 punti vendita dislocati in varie parti del capoluogo e a Santa Maria degli Angeli, quartier generale della Sir Sefeti. Chi è arrivato prima è riuscito ad aggiudicarsi il biglietto. È stato difficile però questa mattina. Ve l'aspettavate già un tutto esaurito a 5 minuti dall'apertura delle prevendite? Beh sinceramente non pensavo, però veramente sono stato fortunato e non volendo ho portato a casa il biglietto. A due biglietti però avete dovuto rinunciare? Beh sì, è dispiaciuto per la signora però ecco non era facile trovare ecco quattro biglietti tutti in una volta. Io ne ho presi due e sono stato più fortunato. Da dove vieni? Io da Città di Castello. E segui ovviamente la Sir? Seguo la Sir e seguo la bella pallavolo perché seguivo anche il Città di Castello quando eri una 1 e una 2 e è uno sport che mi piace quindi... Ti chiami? Alessio. Facci vedere questo biglietto dai. Eccolo qua. E mentre cresce l'attesa per il big match contro la capolista, tra l'altro reduce dalla vittoria della Coppa Italia nelle finali di Bologna dove la Lube ha battuto Trento per 3 a 1, i Block Devils sono atterrati in Russia. Domani sera alle 19 locali, alle 17 ore italiana, con diretta televisiva su Fox Sport, canale 204 della piattaforma Sky, i ragazzi del presidente Sirci affronteranno Tetiukin e compagni con in palio la leadership della Pool E. Dopo una settimana piena di lavoro al palevangelisti, adunque inizio un mese senza soste per i bianconeri. Dal 1 febbraio al 1 marzo, Perugia dovrà infatti affrontare 9 impegni ufficiali, 6 di Superlega che porteranno alla chiusura della regular season e 3 di Champions League che concluderanno le fatiche del gironi.